Bentornato Cudi e bentornata Terminiamo la lezione relativa agli strumenti di amministrazione La sezione che andiamo a trattare adesso si chiama Performance Monitor A cosa serve? È possibile utilizzare questa sezione per esaminare l'effetto prodotto Dall'esecuzione dei programmi sulle prestazioni del computer Sia in tempo reale oppure raccogliendo dei dati da memorizzare all'interno di un registro Per una successiva analisi Infatti potrai così eseguire una diagnosi dei problemi relativi alle prestazioni Oppure raccogliere i dati relative alle prestazioni stesse del computer Potrai così visualizzare le informazioni dettagliate in tempo reale Sulle risorse ardua del computer come la CPU, il disco, le connessioni di rete, la memoria, ecc Oppure sulle risorse del sistema utilizzate dal sistema operativo Servizi, applicazioni, ecc È possibile anche interrompere processi Oppure avviarli ed arrestare dei servizi Oppure identificare i processi che bloccano i file e molte altre funzioni Cliccando sul pulsante accederai alla sezione relativa Credo, per quel che mi riguarda, che la parte più interessante di tutta questa sezione È posizionata nel percorso relativo a prestazioni, strumenti di monitoraggio ed infine performance monitor Si presenterà un rapporto più o meno come questo presente nello screenshot Ma non è precisamente identico perché potrai ottenere una visualizzazione diversa A seconda delle selezioni che attuerai Infatti potrai monitorare tramite una grafica Che potrebbe essere relativa a delle linee che man mano si compongono O tramite degli istogrammi oppure un rapporto numerico che hai appena visto Con il tasto più colorato di verde potrai aggiungere elementi di volta in volta Che vorrai monitorare E oltre ad essere tantissimi La maggior parte sono di apparente poco rilievo al nostro livello di conoscenze Direi quindi di interessarci magari soltanto grossonalmente Le prestazioni principali che possono essere quelle del processore, della memoria, delle connessioni E comunque parametri che sono relativi al tuo impiego del computer Altra sezione è relativa ai servizi In questo modo potrai visionare, avviare, arrestare e configurare i servizi del sistema operativo I servizi sono dei programmi o processi che vengono eseguiti di nascosto In inglese background Che saranno utili per fornire supporto ad altri programmi Avviando tale sezione Si presenterà una lunghissima lista di nomi e sigle nella prima colonna Fortunatamente nella seconda colonna abbiamo una descrizione più o meno ampia Di ciò che eseguirà quel determinato servizio Giusto per farti un'idea delle sue funzionalità Nella terza colonna avrai rappresentato lo stato di questo servizio Se avviato oppure no In seguito avrai il tipo di avvio del servizio Ossia se è un avvio manuale Oppure si avvia automaticamente all'accensione del computer E in ultima analisi avrai la rappresentazione Se questo servizio è un servizio locale o di rete Cliccando due volte sul singolo servizio Si apre una finestra Che avrà diverse caselle E che potrai visionare Ed eventualmente utilizzare per configurare il servizio Come l'avvio dello stesso La modalità di avvio L'arresto Impostare il tipo di avvio Sospendolo Riavviarlo E anche il percorso del file eseguibile E molte altre opzioni Altra sezione del pannello di controllo Dei strumenti di amministrazione E' utilità di pianificazione Ovviamente già un'indicazione Ce l'hai di massima da questa descrizione Infatti questa opzione ti consentirà Di pianificare le attività del computer Per l'esecuzione automatica In pratica potrai impostare degli automatismi Infatti se ad esempio Utilizzi spesso un programma Ad ogni avvio del computer Potrai impostare l'avvio automatico dello stesso C'è una sezione relativa a Crea attività di base Cliccando su questo pulsante Si avvierà una procedura guidata Che ti permetterà di impostare l'avvio automatico Di quel determinato programma Infatti Cliccando sul pulsante Crea attività Avrai in visione una prima schermata Nella quale potrai descrivere Il nome della pianificazione E una minima descrizione di ciò che avverrà In modo da farti un'idea Per una lettura Successivamente clicca sul pulsante avanti Si aprirà il tipo di operazione da seguire Se l'attivazione di un programma L'azione o il termine dello stesso E qui specificare Quando questa attività deve verificarsi Se ogni giorno Ogni mese Una sola volta All'avvio del computer All'accesso d'utente E quanto deciderai meglio Successivamente naturalmente Clicca su avanti Ora supponiamo che tu devi Avviare un programma Qui tramite il pulsante sfoglia Andrai a individuare L'eseguibile Seguendo il percorso Per poterlo andare ad individuare Nell'ultima finestra Di repilogo Cliccherai naturalmente Sul pulsante fine Avrai terminato E in questo modo Hai pianificato Come nel caso appena spiegato Che ad ogni avvio Ad ogni accensione Del tuo computer Si avvierà Anche un determinato programma Subito dopo L'inizializzazione Del sistema operativo Ultima sezione Che trattiamo È visualizzatore eventi In pratica Qui avrai la possibilità Di prendere visione All'interno di un registro Di tutti gli eventi Che occorrono Che avvengono Al sistema operativo In modo da poterli Monitorare in seguito Ed eventualmente Utilizzarli Per risolvere Dei problemi Che si verificano A Windows Oppure ad altri programmi Una volta avviata La sezione Troverai sulla sinistra La lista categorizzata Degli eventi Da visualizzare Cliccando su una Categoria specifica Avrai srotolata La lunga lista Degli eventi occorsi Per quella specifica Categoria Individua un evento Che eventualmente È relazionato Al problema Che andrai a Tentare di risolvere Triccaci sopra E potrai ottenere Informazioni Che ti potranno Torna utile Come detto Per eventualmente Risolvere il problema Qui una rappresentazione Grossolana Di quel che ho appena detto Quindi Vari sezioni In base al tipo di evento Che dovrai andare A individuare Avrai srotolata La lista Degli eventi Occorsi A quella sezione E nella zona Sottostante Avrai mostrata Una descrizione Di quel che va Ad eseguire Quel determinato Evento Bene Andiamo a terminare La parte pratica Della sezione Strumenti di amministrazione Del pannello di controllo Eravamo giunti Alla descrizione Delle performance monitor Cliccando su Questo pulsante Due volte rapidamente Accede a questa sezione Diciamo che questa è una sezione Sostanzialmente Che puoi utilizzare A livello grafico Intuitivo Per poter andare A visionare Le performance Quindi La quantità Di risorse Che il sistema operativo Utilizza Già cliccando sul pulsante Apri Monitoraggio risorse Si apre una struttura grafica Che nella sezione di destra Rappresenta graficamente Quello che accade Nello specifico Alla CPU Al disco rigido Alla rete E alle memoria Qui hai una sezione Che puoi ampliare O ridurre Cliccandoci sopra In panoramica Oppure parzializzata Cliccando su queste sezioni In pratica Nella sezione di sinistra Hai il nome Del processo attivo Questo è l'indicativo Del processo A livello numerico Qui la descrizione Di ciò che esegue Il processo Il suo stato E altri parametri Che ti potranno Tornare utile Ad esempio In questo caso Sto utilizzando Un programma Per la registrazione Di questa lezione E qui ho riportati Per quel che riguarda La categoria CPU I parametri Di impiego Della CPU Stessa Nella sezione Memoria Ho riportato Per lo stesso programma Altri dati Relativi Alla memoria L'utilizzo Della memoria Sia in termini Esclusiva Del programma Stesso O quella condivisibile Ma tutto sommato Quel che può interessare È la quantità Totale Di memoria Che viene ad essere Utilizzata Stesso discorso È applicabile Per le altre sezioni Quindi relativa All'impiego Del disco Oppure Alle risorse Di rete In termini Di byte Totali Di ricezione E trasmissione Oppure settorializzati Per ricezione Ed invio Qual è lo scopo Sostanzialmente Di questa sezione Non tanto quella Di andare a comprendere Tutti i parametri Perché in alcuni casi Sono abbastanza Difficile Da comprendere Ma prendere una visione In modo tale Che qualora si presenti Un problema Oppure Un apparente blocco Del sistema Tu avrai l'opportunità Di visionare Di individuare Quale sezione Quale processo Quale programma E quale Particolarità Hardware O eventualmente software Va a bloccare A ritardare E in più in generale A ridurre Le prestazioni Del computer Chiudiamo Questa sezione E andiamo A visionare Un'altra tipologia Di visualizzazione Quella di Performance monitor Tramite la sezione Prestazioni Strumenti di monitoraggio E performance monitor Ha in questo caso La rappresentazione Di quello che andrai A selezionare La rappresentazione Grafica Può essere variata Tramite questo pulsante In modo da Visionare O come in questo caso Delle linee In base ai parametri Che andrai A visionare O tramite Degli histogrammi O Come meglio Io preferisco Tramite una Risorsa numerica Un rapporto numerico In questo caso Potrai aggiungere Tramite questo pulsante I parametri Da andare A visualizzare Come ad esempio Il processore Cliccando su Aggiungi E andando in visualizzazione Avrai dei parametri Relativi All'utilizzo Del processore Oppure se tu Volessi andare Ad individuare L'impiego Della memoria Sarà sufficiente Andare ad individuare La sezione Relativa Alla memoria E Con un click Andrai a Ottenere Dei parametri Numerici Sull'impiego Della memoria E così via Per tutti gli altri Parametri Che tramite questa Sezione Avrai l'opportunità Di visionare Tramite gli altri Pulsanti Potrai Eliminare Oppure mettere In pausa La schermata Di visualizzazione Ma sono parametri A margine Tutto sommato Andiamo avanti Nella descrizione Andiamo ora A vedere I servizi Cliccando su questo Pulsante Avrai in visione L'enorme lista Di servizi Che il sistema Operativo Andrà ad utilizzare Nella colonna Di sinistra Avrai Una descrizione Del nome Del servizio Che di volta In volta Vorrai Visionare Come caratteristiche E funzionalità Nella sezione Centrale C'è la colonna Descrizione Che ti dà Un'indicazione Abbastanza Utile Per quel che riguarda La funzionalità Del singolo servizio Nella terza colonna Allo stato Dello stesso Se avviato Oppure interrotto Nella quarta colonna Il tipo di avvio Ossia Se è un avvio Automatico Ad ogni accensione Del sistema operativo Oppure Se l'avvio Di questo Determinato servizio Deve E può avvenire Manualmente E in ultima colonna Se il servizio È di tipo locale Oppure di rete Supponiamo ad esempio Di voler andare Ad individuare Un determinato servizio Per vedere Se eventualmente Fosse Stato disattivato Sarà sufficiente Cliccare Due volte Sul determinato servizio Oppure tramite Il pulsante destro Individuare Il pulsante Proprietà Per interagire Con lo stesso Già da questo Mini menu Potrai Arrestare O riavviare Il servizio stesso O ancor meglio Dal pulsante Proprietà In questa schermata Hai una descrizione Di quel che esegui Il servizio Il percorso Dell'eseguibile Quindi avrai L'opportunità Di andare A visionare E ad individuare Dove è posizionato Se il tipo di avvio È automatico Manuale O se lo volessi Disabilitare O infine Interrompere Quindi Come puoi vedere Anche qui Puoi utilizzare Questa sezione Per sgrossare La funzionalità Del sistema operativo E migliorarne Una resa Disattivando Quei servizi Che non Ritieni utili Naturalmente Questa è una sezione Particolarmente Corposa Sia dal punto di vista Della quantità Di informazione Ottenibile Sia dal punto di vista Proprio della cultura Che devi avere Per realizzare Quanto di meglio Per il tuo sistema operativo Ma nulla di vieta Di testare Tramite la virtualizzazione E quindi In piena sicurezza Per apprendere La conoscenza E prendere coscienza Della funzionalità Di un determinato servizio In pratica Un modo per renderti conto Se quel servizio È utile Al tuo utilizzo Del computer Oppure no Andiamo avanti Nella descrizione Tramite la sezione Utilità di pianificazione Potrai avviare Dei processi Di automatismi All'interno Del sistema operativo Supponiamo Di voler avviare Un programma Ad ogni accensione Del computer Non ti resterà Che regarti Nella sezione Di destra Azioni E cliccare Sul pulsante Crea attività Di base In questa sezione Potrai scrivere Il nome del processo Che dovrai Avviare E pianificare Ad esempio Avvio Di un programma Sotto Potrai dare Una mini descrizione Quindi Avviare Un programma All'accensione Potrebbe essere Un modo per poter Descrivere meglio La funzionalità Di questa Pianificazione Poi Clicca sul pulsante Avanti Qui potrai Specificare Quando avviare Quel determinato programma Se una volta al giorno Una volta a settimana Oppure una singola volta O all'avvio All'avvio Del computer In pratica Scegli tu Come meglio Credi Supponiamo Di volerlo Avviare automaticamente Ad ogni accensione Del computer In questo caso Dopo aver selezionato Clicca su Avanti L'azione che dovrai Eseguire In questo caso È l'avvio Del programma Oppure Se vorresti Specificare Un'azione Diversa Come l'invio Di un messaggio Di posta Elettronica O la visualizzazione Un messaggio Che ti potrà Torna utile Per ricordarti Una determinata Operazione Da eseguire Ma proseguiamo Per l'avvio Del programma Cliccando su Avanti In questo caso Dovremmo andare A individuare L'avvio del programma In particolar modo Tramite il pulsante Sfoglia Andare ad individuare L'eseguibile Che permetterà A questa opzione Di pianificazione Di avviare Quel determinato programma Ad ogni accensione Del computer Ad ogni inizializzazione Del sistema operativo Cliccando su Sfoglia Andiamo ad individuare Quindi L'eseguibile Come detto Del programma Supponiamo Di voler far avviare Un browser Automaticamente Andiamo ad individuare L'eseguibile Del browser In questo caso MaxTone Apriamolo E dopo averlo Individuato Qui c'è la linea Per raggiungere L'eseguibile Del programma Clicchiamo su Avanti In questo Riepilogo Abbiamo Tutti i dati Che ci necessitano Dopodiché Clicchiamo Sul pulsante Fine Per portare A termine Questa operazione Andiamo adesso A visionare L'avvenuta Pianificazione In questo caso Possiamo vedere Che abbiamo Pianificato L'avvio Di un programma E il Parametro Appena impostato È correttamente Attivato Qui la rappresentazione Generale Di quel che abbiamo Descritto Durante La procedura Di pianificazione Potremmo anche Decidere Di eliminare L'attività Pianificata Qualora Avessimo Sbagliato Delle impostazioni Andiamo avanti Nella descrizione Parlando Dell'ultima sezione Visualizzazione Eventi Cliccando Sul pulsante Relativo Avremo Sulla colonna Di sinistra La categoria Di informazioni Nella quale È categorizzata È memorizzata La lista Degli eventi In base Al tipo di evento Che dovrai Andare Ad individuare Avrai srotolata Al centro La lista Degli eventi Che saranno Corsi Per quella Determinata Categoria Non dovrai Far altro Che andare A individuare Quello Che eventualmente Devi visionare Per risolvere Eventuali problemi E una descrizione Nella sezione Generale Ti potrà Tornare utile Verosimilmente A risolvere Il problema A te La possibilità Di andare A smanettare Questa sezione Per acquisire Quante più informazioni Ti necessitano Per l'uso Del computer Bene Ci leggiamo Nella prossima Lezione Per avvicinarci Al termine Della descrizione Delle sezioni Del pannello Di controllo Ora un forte saluto Ciao a presto Da Gallo E alla prossima Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto Ciao a presto